Che cosa vedi in questa foto? Innocenza, sogni, un futuro? Ti sbagli. Sembra una bambina, ma purtroppo non l'è più. È una sposa bambina e come lei ne esistono tantissime altre. Sposa bambina è un'espressione che non dovrebbe esistere. Peccato che ancora oggi in paesi come Kenya, Rwanda, India, Pakistan e tanti altri ancora, i matrimoni precoci e forzati siano una triste realtà. Si stima che nel sud del mondo ogni giorno 33.000 bambine siano costrette a contrarre un matrimonio precoce e forzato. È un numero che mi fa venire i brividi. Significa una bambina ogni tre secondi. Questo è un crimine, è un vero e proprio crimine. Queste bambine rischiano la vita per via di gravidanze precoci e si vedono negati i diritti ad un'infanzia, ad una educazione e ad una vita senza violenza. Aiutaci a prenderle per mano e a far sì che restino soltanto delle bambine. Bambine che meritano di vivere ogni istante della propria infanzia. Bambine che meritano di sognare un futuro e i mezzi per conquistarselo. Noi oggi possiamo fare qualcosa per cambiare tutto questo. Insieme. Adotta una bambina a distanza con ActionAid. Grazie a te potrà andare a scuola e crescere in un ambiente sicuro all'interno della sua comunità. L'aiuterai a conoscere un mondo diverso fatto di amore e di diritti. Da oltre 30 anni ActionAid realizza il cambiamento con l'adozione a distanza. Fallo anche tu. Vai su actionaid.it e adotta una bambina a distanza. Grazie.